Ladies and gentlemen, signore e signori, con grande emozione e soddisfazione manageriale abbiamo il piacere di andare a presentare il campione di oggi, Gaetano Romeo. Il nostro campione siciliano inizia a giocare all'età di 12 anni, pensate, e grazie ai suoi grandi punti di riferimento il maestro Salvatore Mannone, Davide Martinelli, riesce a crescere moltissimo biliardisticamente. Il suo talento esplode fin da giovane all'età di 26 anni, riesce a creare un record incredibile da ripetersi. Pensate invece, nel 2004 vince la BTP a Pian di Sorrento, partendo dalle selezioni, avete capito bene, ed entrando nel tabellone dei professionisti, riuscendo a vincere ben 11 incontri consecutivi. E grazie a quella vittoria, ottiene il passaggio alla massima categoria. Dotato di grande tecnica e visioni di gioco, oltre alla sua importante caratteristica di colpitura, riesce, da oltre 18 anni, ad esprimere un biliardo ad altissimi livelli. Amici miei, sapete come lo definiscono? Incredibile, lo definiscono Uragano. Sì, avete capito proprio bene, come un Uragano spazza via tutto quello che incontra sul suo cammino. Nel caso del biliardo, i virilli volano dappertutto, sul tavolo verde, non lasciando scampo ai suoi avversari, che, invisibile affanno, cercano di contenere la sua importante furia agonistica e vincente. Signori e signori, un vero talento. Molti addetti ai lavori lo seguono da anni, lo definiscono il futuro del biliardo. Oggi, amici miei, è una grandissima realtà e sentiremo parlare di lui, amici, per molti e molti anni. Perché? Perché è un campione vero e la sua classe è pura e cristallina. Palmaresse importante, tre BTP vinte, un campionato a squadra europeo, un vice campione europeo, un vice campione italiano a squadra e tantissime altre gare vinte, nazionali e regionali. Quindi, amici miei, Gaetano Romeo è un grandissimo campione. Anche Gaetano Romeo ha aderito al nostro progetto di Biglia Stars. Mi rivolgo a voi, a voi gestori e responsabili di sale biliardo in Italia e all'estero. Non perdete l'occasione di avere un grande campione come Gaetano Romeo. Lui, con il suo immenso talento, riuscirà a portare entusiasmo, qualità, classe, esperienza, tutti ingredienti per generare un vero biliardo spettacolo. Riuscirà a farvi apprezzare e a capire meglio le varie sfumature e le bellezze che il magico mondo del biliardo esprime. Cosa aspetti a contattarci? Tramite un piccolo rimborso spese o eventuali sponsorizzazioni potrai avere il nostro campione nella tua sala. Sì, avete capito proprio bene. Amici, non è un sogno, ma pura realtà. Possiamo farvi avere in sala il grande campione Gaetano Romeo. Sì, avete capito proprio bene. Sì, avete capito proprio bene.